Un paradiso naturale incontaminato, estese ballate, vette dolomitiche, eccezionali testimonianze fossili che affascinano per la loro bellezza ed unicità il maestoso volo dell'Aquila Reale, il paesaggio invernale fiabesco e i 37.000 ettari di profumi e colori. Benvenuto nel Parco delle Dolomiti Friulane, patrimonio naturale dell'UNESCO. Una flora ed una fauna uniche nel suo genere, numerosi itinerari e sentieri, escursioni e visite guidate, corsi di arrampicata, piatti e prodotti tipici tradizionali, settimane bianche e verdi, weekend con integrazioni didattiche naturalistiche ed etnografiche ed una ricettività moderna e rispettosa dell'ambiente, fanno del Parco, un luogo dove anche tu potrai vivere momenti indimenticabili. Parco naturale Dolomiti Friulane, tutto straordinariamente emozionante. Grazie. 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 Grazie.